Dal 17 al 26 febbraio, non lasciarti scappare le grandi offerte del supermercato PAM ad Avola. Risparmierai il 30% su tantissimi prodotti. Chantecler ravatrice a 2,49€. Fette biscottate mulino bianco a 1,74€. Minestrone Findus a 1,49€. Shampoo Nivea a 1,49€. Vetrille multisuperficie a 1,65€. Le vittima naturale da 1,5 litro a 0,29€ a bottiglia. Confezione da 2 bottiglie di Coca-Cola a 2,29€. E troverai tante altre offerte con sconti del 30, 40, 50%. Il regalo per te, un set girasole a scelta ogni 15€ di spesa. Supermercato PAM ad Avola incontrata a Borgellusa. Aperto tutti i giorni con orario continuato dalle 8 alle 20 e 30 e domenica dalle 9 alle 13. Più PAM, più risparmio!